Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, buonasera e ben arrivato. Io per farla arrabbiare ancora di più le faccio risentire bene in maniera un po' più estesa le parole di Giorgia Meloni di ieri sul reddito, così entriamo subito nel vivo, ascoltiamola. Noi abbiamo scelto diciamo di tenere un periodo transitorio per accompagnare quella che sarà la fine del reddito di cittadinanza per chi è in condizioni di lavorare. Perché io credo e continuo a credere e nessuno mi toglie dalla testa questo obiettivo e ovviamente si stracceranno le vesti, vedo forze politiche che già chiamano la piazza, bene tutto. Vorrei sapere se chi ha pensato il reddito di cittadinanza quando lo ha pensato lo ha immaginato come uno strumento con il quale lo Stato dovesse occuparsi delle persone dai 18 ai 60 anni. Voi avevate immaginato uno Stato che dovesse occuparsi delle persone dai 18 ai 60 anni di fatto? No, io immagino uno Stato che si preoccupi delle persone da quando nascono a quando muoiono, quindi in modo molto più esteso, perché altrimenti che Stato è? Siamo alla barbarie, se non ci occupassimo ovviamente dei nascituri addirittura e di coloro ovviamente che meritano un funerale. Battuti a parte, questa è una manovra, la Presidente Meloni in conferenza stampa ha parlato oltre un'ora, un'ora e mezza, lasciando che facessero i giornalisti poche domande. In quell'ora e mezzo ha detto in sostanza, si è vantata, questa è una manovra coraggiosa nel segno della crescita della giustizia sociale. Adesso quando i cittadini si renderanno conto e potranno poi toccare con mano quando arriverà a terra questa manovra, si accorgeranno di quello che dico in questo momento. Questa è una manovra da zero coraggio, zero crescita, tanta ingiustizia sociale. Ecco, lei adesso ha detto la parola barbarie, è una battuta, però li ha chiamati disumani. Allora mi spieghi che cosa c'è veramente di disumano secondo lei in questa modifica del reddito di cittadinanza? Gli lo spiego, guardi, perché dire oggi che il reddito rimarrà per la platea degli occupabili, stiamo parlando di 660 mila persone? Occupabili è la parola incriminata. Occupabili, stiamo parlando di nuclei familiari, dietro quelle persone ci sono dei nuclei familiari. Molte di queste, per il 70%, non arrivano alla terza media, arrivano massimo alla terza media e non oltre, hanno un livello basso di istruzione. E in più, una buona parte, 190 mila, sono over 50. E quella fascia d'età, over 50, over 60, che ovviamente ha difficoltà di ricollocazione nel mondo del lavoro. Allora perché è disumano? Perché dire a queste persone, guardate, ci avete otto mesi di tempo, ad agosto, per usare il linguaggio che la Meloni usa a parlare, finisce il metadone di Stato, finisce la pacchia. Cosa significa? Che lo Stato li accompagna sull'ollo del baratro e poi gli dà ad agosto un calcio nel sedere, mentre invece accarezza evasori e corrotti. È un mondo capovolto. Ha letto male la nostra Costituzione. Però anche lei non l'avrebbe modificato un po' a questo reddito? Non avrebbe sistemato delle cose? Stato in campagna elettorale con linguaggio di verità. È una riforma complessa, l'abbiamo avviata, adesso dobbiamo lavorare alle politiche attive del lavoro. Oggi in Italia non funzionano ancora, ma non funzionano da decenni. Noi abbiamo iniziato a lavorare. Sa cosa manca, semplicemente, per farle un esempio? Manca una piattaforma digitale. Non c'è circolazione di informazioni tra le agenzie nazionali, i centri per l'impiego, le agenzie private. Come possiamo da un giorno all'altro? Dovevamo lavorare a questo. Noi ci siamo resi disponibili. Loro hanno annunciato, faremo corsi di riqualificazione. Dove? Quando? Quando partiremo? Ecco, quella è la parte che manca in questa manovra, han detto in diversi. Però Giorgia Meloni la mette da un altro punto di vista e le chiedo se le suona. Lei dice, noi abbiamo fatto anche delle scelte impopolari, tra cui questa modifica del reddito che fa così discutere. Conte le avrebbe tenute perché in realtà gli ha portato molto consenso, anche in campagna elettorale. Guardi, questa è una cosa veramente molto sciocca. Perché io anche in campagna elettorale, è vero che molti mi sono venuti incontro e anche i percettori di reddito mi hanno ringraziato. Hanno ringraziato il Movimento 5 Stelle che ha promosso questa riforma. Sa che cosa rispondevo io? Guardate, non dovete rispondere me. Questa è una riforma dello Stato. È lo Stato che vi manda questo assegno perché siete in difficoltà. E non vi dovete vergognare, a dirlo anche socialmente, perché tutti mi rivendicavano dignità sociale. A tutti può capitare di essere in difficoltà. Quando la Meloni si confronterà a settembre, ad agosto, settembre, con persone che non trovano lavoro, perché se il lavoro non c'è, non lo inventa lei, non lo inventerà lei. E allora, quando non avranno lavoro, queste persone non potranno sfamare le loro famiglie, lei si renderà conto del disastro sociale che sta costruendo in questi giorni. Però le posso dire questa manovra? Mi dica. No, aspetti, però, disastro sociale chiama un'altra espressione utilizzata che è il rischio di rivolta sociale. Io le chiedo, non teme che in un momento già così critico, così si possano accendere ancora di più gli animi e che poi le dicano che lei in qualche modo ha sobbillato le piazze, le folle? Ma guardi, non è che dobbiamo scambiare la causa con l'effetto. Io già con Draghi, ma addirittura in primavera, dissi a Draghi, caro Presidente, se qui non interveniamo con un piano straordinario, la gente non ha di che mangiare. Quello è più il problema di arrivare a fine mese. Qui sono persone che non arrivano manco a metà mese, non hanno nulla da mangiare all'inizio del mese. Quindi questo problema si trascina da allora. Interviene un governo politico? Signori, siamo in democrazia. Io sono stato il primo ad aver detto un governo politico, benissimo, si assumerà le responsabilità di scelte forti, politiche, raccogliendo e soddisfando quelle che sono le priorità del Paese. Ma qui, attenzione, un quadro più generale. Questa manovra ha stanziato 21 miliardi, di cui veramente il vero scostamento sono 11 miliardi in deficit, per i primi tre mesi, primo trimestre del nuovo anno. Lo dice Giorgetti, il ministro dell'economia. Ora io dico, ma qui forse hanno sbagliato. Pensano che stiano facendo una trimestrale, il gergo tecnico, un piano finanziario per tre mesi. Questo è il piano finanziario per il 2023 del Paese. Dopo i primi tre mesi, come affronteranno la recessione? Qui non c'è nulla, neppure. Non c'è una visione, però intanto io le posso dire che l'Europa non ha alzato un sopracciglio. Tutti dicevano, manderanno i conti all'aria. L'Europa non ha ricevuto ancora nulla, mi permetta. Bene, però sappiamo, la dichiarazione di intenti, non parlo di documenti scritti, parlo di dichiarazione di intenti, si sapeva cosa avrebbe fatto e non li ha fatti arrabbiare. Abbiamo fatto tutta una campagna elettorale dicendo sfascerà i conti, butterà tutto per aria. Credo che sia proprio sbagliata l'impostazione. La Meloni non ha preso i voti dicendo io compiacerò l'Europa. Ha preso i voti, e sentiamo questa molesta litania da decenni, da quando lei è in politica, perché lei è l'unica, dice, che difende l'interesse nazionale. Quindi io non mi aspetto le carezze dell'Europa. Io mi aspetto un governo politico che comprenda le difficoltà di famiglie e imprese e abbia il vero coraggio, non a chiacchiere, di intervenire per sostenere il tessuto produttivo. Guardi, non c'è un euro per investimenti alle imprese. Noi andremo in un disastro recessivo e lei accompagna e asseconda questo disastro recessivo. Però lei ha vissuto un'esperienza personalmente che è stata quella del governo giallo-verde che andò male, poi per le ragioni nostrane che conosciamo, ma ha guardato molto di traverso dall'Europa perché si temeva che con i conti si facessero grandi feste. Quindi c'era il ministro Tria, le famose scene di lui ostaggio. Giorgio Meloni ha voluto scongiurare questo rischio perché ha detto se no qualunque visione politica io ho il governo a vita breve. Guardi, il problema di quel governo è stato sicuramente che c'erano delle voci che suonavano anti-europeiste contro l'eurozona. All'interno della Lega c'erano presidenti anche di commissione che ci mettevano in difficoltà, ovviamente. Quindi abbiamo avuto un grande affare, per spiegare io personalmente, in Europa che non volevamo uscire dall'euro, che eravamo europeisti... Ma europeisti critici. Però attenzione, quel governo con il suo coraggio è iniziato a rompere le politiche dell'austerità. Io l'interesse nazionale l'ho iniziato a difendere da quando, dal primo giorno in cui mi sono insediato a Palazzo Chigi nel 2018. Io ho scongiurato due procedure di infrazione per non portare il Paese in recessione. Io pensavo che chi si riempie la bocca di interesse nazionale venisse qui e consentisse, non prevedesse per l'anno prossimo uno 0,7% di incremento massimo del PIL. Così noi non andremo da nessuna parte. Però, Presidente Conte, la spesa pubblica durante il periodo della pandemia, lei lo sa, perché se ne è occupato direttamente, è esplosa per evidenti ragioni. Se noi avessimo fatto un ulteriore scostamento di bilancio, parola tanto abusata, vede, guardi come siamo messi, 1.029 miliardi, per la prima volta andiamo sopra i 1.000, siamo al 54,3% del nostro PIL. Secondo lei, se lei avesse fatto, come mi confermi, lei aveva in mente di fare un ulteriore scostamento di bilancio, che le avrebbero detto? Chiarissimo. Proviamo a spiegarlo ai telespettatori, anche a chi non è avvezzo, diciamo, con le dottrine e con la pratica economica. È chiaro che abbiamo un debito alto. Allora la possibilità, o tieni i conti in ordine, e se c'è un evento recessivo di grande impatto come questo, vai giù, affoghi, e il tessuto produttivo rimane in fase recessiva, non sappiamo quanto a lungo, oppure fai quello che abbiamo fatto durante la pandemia. Con grande responsabilità, visione, coraggio, studiando bene le misure, abbiamo erogato 130 miliardi, guardi che non erano solo bonus, come nel dibattito, nel dibattito, esatto. Molte erano misure transizione 4.0, fondo nuove competenze, fondo di garanzia per erogare e far crescere le imprese, per renderle più competitive. E tutto questo ci ha consentito, pensi, con la legge di bilancio ultima del Conte 2, di crescere. Siamo stati la locomotiva d'Europa, siamo cresciuti più 6,7% di PIL, mai successo negli ultimi lustri. E in più, attenzione, e vengo a lei, abbiamo ridotto, proprio perché è cresciuto il PIL, abbiamo ridotto di 5 punti percentuali il debito PIL. Cioè, mi spiego, se c'è un grande debito e non cresci, questo debito rimane lì. Se invece cresci, cresci con investimenti, con una prospettiva di crescita per il Paese, lo riduci meglio. Però ci sono tanti provvedimenti in questa manovra. La flat tax, per esempio, le è piaciuta? Ma che fa? Mi prende in giro? Sì, un po', però... Mi sta prendendo in giro. Allora, io dico solo una cosa. Io sono... Niente le è piaciute nella manovra. Le dico che nel Conte 2 è introdotto la flat tax fino a 65 mila euro. Quindi le dovrebbe piacere. Però se tu me la estendi da 65 mila a 85 mila per gli autonomi, tu a chi prende 85 mila di ricavi fai pagare il 15%, ma un lavoratore invece dipendente arriva a pagare il 43%. Ma che equità sociale c'è? Cioè, volevano introdurre uno scaglione... Però c'è così tanta differenza tra 65 e 85. Ma da 65 e 85 non poteva essere al 15%. Adesso è un sistema completamente sprequato. Uno, vogliamo parlare dei voucher? Hanno introdotto una sorta di liberalizzazione selvaggia dei voucher nel settore agricolo e nel settore del turismo. Precariato selvaggio. Ma come? La Melone aveva detto salario minimo no, come no? È uno specchietto per le allodole, ha detto in campagna elettorale. Però siamo contro i contratti a termine. Questa disciplina, adesso la toccheremo con mano, creerà un precariato nel settore agricolo e nel settore del turismo. Vogliamo parlare delle pensioni? Però, mi dica una cosa che le ha piaciuto... Cioè, non c'è niente che le è piaciuto in questa manovra. No, guardi, le pensioni, possiamo dire che le pensioni con un piccolo accorgimento espediente fanno vedere che crescono un po' quelle pensioni minime, 25 euro in due anni, però prelevano dalle pensioni 3 miliardi. Fanno cassa sui pensionati. A casa ci sono delle persone che prendono 3-4 volte la minima e lì la rivalutazione gli viene tagliata. E allora, scusi, quelle sono persone che hanno versato tutta una vita. Se l'inflazione galoppa oltre l'11-12... Ma questo stesso problema lo abbiamo con la sanità, con il welfare, no? Per tutti i soldi... Da 7.1 a 6.1 di PIL. Cioè l'esperienza del Covid non ha insegnato nulla. Tagli dappertutto. Guardi, lei mi ha detto che cosa mi è piaciuto. In tutta sincerità, lo dico perché bisogna dare a Cesare quel che dice Cesare. C'è un aspetto della manovra che è più soddisfacente. Noi abbiamo introdotto l'assegno unico, l'ho introdotto io col Conte 2 e qui è stato potenziato per i figli. Per tutti. prima solo per quelli numerosi... le assunzioni, c'è un taglio per quanto riguarda contributivo per chi assume a favore dei giovani, a favore delle donne, a favore del percento di reddito. E' una misura che avevamo già prevista. Quindi quando dice diamo a Cesare quel che è di Cesare è lei Cesare. cioè si stava dando un pauso da solo... Hanno continuato nel segno di alcune misure che avevamo introdotto a te contributive. Senta, le voglio dire subito una cosa. Lei sta parlando da capo dell'opposizione. Questo ormai è un dato di fatto. Parla così perché ne è convinto? Parla così perché i sondaggi la danno sopra al PD? Perché? Io parlo così perché sono leader di una forza politica del Movimento 5 Stelle che ha preso impegni con i cittadini in campagna elettorale e li manterrà. Manteremo e ci batteremo fino alla fine per mantenere quegli impegni. Adesso siamo all'opposizione e sono un leader di una forza di opposizione. Poi questo discorso leader di tutta l'opposizione è un'opposizione siamo sopra il PD sotto il PD a me non mi interessa. A me interessa lo dico anche a tutti gli amici del PD e a tutti i giornalisti. Che gli diciamo agli amici del PD? Io dico assolutamente che noi voi ormai ci conoscete noi non devieremo mai dei principi dei valori e degli impegni presi in campagna elettorale. Ogni battaglia su cui vi vorrete unire con noi sappiate che siete i benvenuti. Per quanto riguarda il resto nessuno vuole fare OPA sul PD nessuno vuole andare a suotare altri partiti. Non le sta facendo un po' lo sgambetto al PD che li supera sempre a sinistra e loro sono in difficoltà. Fatemi capire quindi quando il PD ci stava ammazzando in campagna elettorale va bene adesso perché cresciamo siamo quelli che vogliono fare lo sgambetto al PD. Io sto facendo un percorso politico già preannunciato ai cittadini continueremo a farlo parlando chiaro ai cittadini per esempio ci batteremo per la transizione ecologica energetica questo ce l'ho chiaro però scusi se la riporti in politica finisco solo su questo passaggio dal primo giorno ha annunciato trivellazioni anche nell'alto adriatico in zone dove veramente c'è un rischio alla foccia del Po e via discorrendo c'è un rischio anche di smottamenti di abbassamenti dei fondi marini comunque un disastro degli ecosistemi marini quindi lei dice ci sono dei punti il PD che posizione prende su questo ma io le chiedo lei sta dicendo al PD la linea l'ha detto io voi se volete vi unite ma non è che l'hai detto io guardi io ho preso dell'impegno i cittadini non è che io posso mettermi a fare vogliamo lei vuole venire alla polemica speech quella attuale non è che oggi dopo aver per anni esserci battuti e presi voti contro gli inceneritori andiamo a firmare un inceneritore su Roma di 600 mila tonnellate chiaro su quello c'è quasi caduto il governo termovalorizzatori la tematica però vedo che il PD non ha ancora fatto tesoro dell'esperienza accaduta ah quindi dovrebbero far tesoro l'esperienza accaduta e ripartire da quello senta le voglio chiedere però lei ha detto una cosa precisa sul PD lei ha detto non si può dialogare con questa classe dirigente e finché è così è lo stato di cosa allora tra poco io invece avrò il presidente Bonaccini che si è candidato a segretario e che potrebbe essere verosimilmente il nuovo segretario del PD democratico con Bonaccini con Bonaccini si può dialogare guardi e mi risponda ma io non potrò mai entrare a piedi uniti o a gamba tesa nell'ambito del dialogo del processo congressuale di un altro partito a mettermi a sindacare mi piace più un candidato o l'altro non è da me non è dal Movimento 5 Stelle anzi auguro pubblicamente al PD di fare un serio congresso un congresso vero perché io stesso ho toccato con mano l'esistenza di correnti che sono molto radicati anche sui territori che spesso impediscono di perseguire una lineare una linea politica chiara coerente e quindi da questo punto di vista io mi auguro che loro si chiariscono al loro intero sulla linea politica un processo identitario un processo programmatico chiaro, serio abbiamo bisogno di questo per avere un forte contributo adesso dall'opposizione un'ultimissima cosa telegrafiche in conclusione che farete rispetto alle alleanze nel Lazio e in Lombardia sosterrete Maiorino in Lombardia sosterrete Damato nel Lazio ci pensi un attimo le domande che lei mi sta facendo quindi il PD voi dite in difficoltà tutti quanti in difficoltà un processo c'è però il PD senza sedersi in un tavolo ha scelto un candidato nel Lazio che si chiama Damato ha scelto un candidato in Lombardia che si chiama Maiorino quindi noi dovremmo essere la succursale del PD io ho parlato ho detto noi siamo disponibili a parlare con tutti di programmi no assolutamente io ho detto siamo disponibili a parlare con tutti di programmi partiamo dai programmi e ho detto poi una volta definito il programma insieme insieme decidiamo l'interprete migliore per attuare quel programma ho anche precisato una conferenza e un nome ce l'avrebbe scusi ho anche precisato non deve essere un presidente un candidato del Movimento 5 Stelle ma non mi chiamate per certificare le vostre correnti interne per venire a mettere un sigillo un bollo sulle vostre correnti interne e sulle lotte intestine va bene allora io ringrazio molto il presidente Conte ci rivediamo quando i nomi verranno fuori vediamo se avete trovato un accordo col Partito Democratico grazie grazie e voglio portare